Consigliere Fossati, allora un libretto, un bilancio di metamandato che non solo non convince per gli errori ma anche per quello che è costato? Ma sì, guardi, un'operazione che io ho definito vergognosa e non ho difficoltà a ribadirlo. Un'operazione banalmente e bassamente elettorale di propaganda che è costata 20.000 euro alle casse del Comune, quindi ai cittadini in ultima analisi, piena di errori e di inesattezza, è una cosa impressionante. Hanno addirittura sbagliato tutta la tabella delle entrate del Comune, hanno dovuto fare un emendamento per eliminare dal bilancio sociale la tabella delle entrate. Cioè abbiamo approvato un bilancio, hanno approvato un bilancio dove la tabella delle entrate è stata tolta perché era completamente sbagliata. E poi un bilancio di propaganda, danno per fatte cose che non sono state fatte, si attribuiscono meriti di cose fatte da altri. Un'operazione veramente inaccettabile, io credo, e credo che diventerà un boomerang clamoroso per chi ha voluto farla. E tra l'altro ha unito questa spesa a una spesa invece non fatta, quella dei soldi che il Comune deve al condominio Isnardi per poter aprire il famoso parcheggio interrato. Sì, il caso voleva, ha voluto che proprio ieri avessimo discusso, abbiamo discusso anche una question time sul parcheggio degli Isnardi, il terzo piano interrato, quello che è chiuso dal gennaio 2014, sono 46 mesi che è chiuso. Ho chiesto all'assessore competente, all'assessore Abo, per quale motivo a 46 mesi di distanza dall'alluvione appunto del gennaio 2014 questo parcheggio non sia ancora stato riaperto. Nonostante siano stati spesi soldi per sistemarlo, per cambiare le pompe e si diceva si era quasi a posto, è quel quasi che mi preoccupava. Abo, devo dire con un'onestà intellettuale che gli fa onore, mi ha detto una cosa che ci ha lasciato tutti i basiti. Il parcheggio non apre perché il comune è moroso nei confronti del condominio per 19.000 euro, che si riferiscono alle spese di energia elettrica di questo parcheggio, e finché non paga 19.000 euro al condominio, il condominio non eroga l'energia elettrica per il parcheggio e quindi il parcheggio rimane chiuso. Quindi non paghiamo le spese condominali, teniamo chiuso un parcheggio da 70-80 posti macchina che valgono come oro in quella zona, e oltretutto hanno una redditività perché sono un parcheggio a pagamento, nello stesso tempo deliberiamo di spendere 20.000 euro, per fare un libretto propagandistico pieno di errori e veramente inutile e assolutamente non necessario.